Errarum anum est perseverare diabolicum si dice, quello è un posto sbagliato dal punto di vista ambientale, oltretutto non c'è nessun motivo per cui queste procedure si vengono fatte da un'autorità in emergenza senza una responsabilizzazione delle istituzioni locali ed è sbagliatissimo dal punto di vista simbolico. Roma non si può permettere di fare una discarica in un posto sbagliato che oltretutto è vicino a Villa Adriana. Il mondo ci riderà dietro e ci disprezzerà per una scelta così stupida, bisogna cambiare rotta partendo da una politica seria sui rifiuti, la raccolta differenziata a Roma non è una cosa seria, partendo da un insieme di impianti e trovare una discarica diversa da Corcolle, da quel sito vicino a Villa Adriana perché quello non è il sito adatto.